Siamo con Mattias Pellegrini, capitano di questa Juniors di Mister Carboni che anche oggi ottiene tre punti importanti una bella vittoria contro il Riedi, avversario ostico e noi festeggiamo questo successo con lui buonasera e complimenti Buonasera, grazie dei complimenti è un successo molto importante è arrivato con un 3-0 secco giusto per riscattare la partita di andata che avevamo preso il gol all'ultimo, avevamo perso e ora è importante andare a vincere l'ultima di campionato con il Trastevere per cercare di giocarci al meglio il playoff Senti, un'altra vittoria per questo Ostiamare che ha ingranato proprio la marcia quella giusta e vuole continuare con un altro successo che sarebbe importantissimo e fondamentale per ottenere questo primo posto quindi a Trastevere sarà battaglia Certo, cercheremo, non ce la metteremo tutta per cercare di vincere e tirare fuori il risultato anche se non sarà facile ma le potenzialità delle squadre sono alte e credo che con una buona partita possiamo riuscire a strappare qualcosa Senti, per te è arrivata pure la gioia delle prime convocazioni con la prima squadra come hai vissuto questa emozione? Beh, allora, innanzitutto eri stato ripagato il lavoro di tre anni a questa parte sono molto felice che finalmente ho avuto questa opportunità e anche grazie a Mr. Greco ha creduto in me e spero che arriverà presso anche l'esorbo E allora, in attesa di tante altre emozioni che vivremo tutti insieme appuntamento al Trastevere Stadium per il 30 marzo match da non perdere tra Trastevere e Ostia Mare in bocca al lupo e complimenti per oggi Previ, grazie 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 Grazie